Sono arrivato di corsa perché il consiglio si è prolungato oltre il previsto Abbiamo anche una contestazione e viva! Così almeno tutti voi potete capire la differenza fondamentale che c'è tra noi e loro Noi non andremmo mai, mai, mai siamo andati a disturbare l'incontro tra qualcuno dei loro capi, dei loro leader e i loro elettori Perché noi siamo uomini e donne democratici in libertà Si sono messi a strumentarizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti, vergogna! Non avete dignità, non sapete cos'è la novità d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà! Siete ancora e dozi come sempre, che poveri comunisti!